Benvenuti a questo nuovissimo episodio della nostra carriera allenatore con il Modena su FIFA 23 quest'oggi ragazzi andiamo avanti con questa stupenda carriera abbiamo il mese di ottobre che si va a chiudere con Bologna, Samp e Atalanta in campionato il mese di novembre che si apre con il Bodo in Champions poi abbiamo Napoli e Fiorentina in campionato e chiudiamo con il Paris Saint-Germain sempre in Champions League e chiuderemo quindi con la quinta giornata del girone di Champions Champions dove attualmente siamo secondi a 6 punti da aver battuto nello scorso episodio sia Sevilla che Bodo Klimt e quindi dobbiamo dare continuità a questo periodo di forma splendido sia in campionato che in Europa per andare avanti vi ricordo che se volete seguire questa carriera del 100% voi è Twitch, TheKingXIV se invece volete sempre in contatto conoscere meglio e rimanere sempre aggiornati vi è Instagram, I'm not TheKing, se invece volete vedermi parlare di altro oltre al calcio via TikTok tutti i link in descrizione, il commento vi sia in alto adesso però immergiamoci all'interno di questo episodio allora abbiamo subito il Bologna, vediamo un attimo la situazione in classifica siamo undicesi ma come dicevamo alla fine dello scorso episodio siamo tutti attaccati perché il nostro undicesimo posto con una partita in meno rispetto alle altre vuol dire che noi saremmo praticamente settimi se dovessimo vincere questo match contro il Bologna e potremmo andare a meno 4 per l'appunto dall'Atalanta che affrontiamo proprio in questo episodio quindi è una situazione in classifica abbastanza strana perché siamo ancora all'inizio di questa sera siamo allo stesso momento alla non aggiornata contando questa contro il Bologna quindi può succedere letteralmente di tutto giochiamo con Gagno in porta, Agia Pong, Andersen, Viti, Parisi, Collocolo, Bologa, Shimaski Bugà, Montiano, Callon, loro giocano invece con Di Gregorio in porta Arauco, Ostigard, verissimo Ferguson, Sambilo con Gà, Danek, Marchinhos Zigrova, Brereton, Dias e Belotti questi c'hanno una formazione clamorosa andiamo contro il Bologna Bugà, posizione regolare, sembrava fosse andato in fuorigioco Bugà, la scodella in mezzo ma c'è Arauco che capisce tutto, lo chiude, rischia un pochino e poi passa il numero 7 sbagliando, Montiano la tocca appena Collocolo a destra verso Shimaski Shimaski dentro per Montiano ho caricato troppo al ventunesimo palla al lato di nulla Jeremy, Shimaski è più rapido di Ostigard Ostigard ha più fisico Shimaski passa, Shimaski riesiste Shimaski in mezzo a cercare Montiano in mezzo rovesciata palla alta, secondo occasione sempre sul piede destro di Montiano che l'Ola fa bene palla alta potente ma poco preciso cross in mezzo vedi la tocca a Ostigard palla alta palla alta al 45 no, no, no sono un deficiente sono un deficiente palla fuori sono un deficiente però sono un deficiente a Japong Kallon Shimaski Bologna che azione meravigliosa il nostro mod Bologna al lato al 56 Danek cross in mezzo Viti la tocca appena e poi Belotti ma bravissimo Riccardo Svanberg proprio lui appena entrato va da Montiano Montiano si gira ce l'ha sul destro Montiano lo prova proprio con il destro di Gregorio dice no al 65 cross in mezzo da parte di Fabiana a cercare Luis traversa traversa di Montiano anche sfortunato sto ragazzo ed ecco qua il toro al posto di Montiano la deve risolvere il toro vai Claude Claude peccato che Callon non ha seguito bene l'azione andiamo adesso da Yaya passa superissimo almeno ci prova è passato Callon 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 di dietro Facundes non ci credo deve entrare Facundes per risolvere la partita praticamente a porta vuota palla alta Nikutazze da Facundes Facundes da Shimaski il pallone è passato in qualche modo Shimaski da Callon 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 ma non ci posso credere ma che piedi ci abbiamo ma che piedi ci abbiamo ragazzi ma com'è possibile Callon ultimissima occasione forse Callon salta la prima marcatura Callon accelera Callon controverissimo Callon passa anche superissimo Callon 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 Shimaski centrale e allora ragazzi ditelo ditelo che volevate pareggiare 0-0 contro il Bologna ditelo 0-0 contro il Bologna una partita dominata nel secondo tempo 0-0 che ce devi fare purtroppo il derby contro il Bologna è sempre in punto interrogativo puoi anche dominare ma comunque o perdi o pareggi la vittoria non è nelle nostre corde nel derby 0-0 contro il Bologna va bene Sampdoria che è disassettito in classico noi siamo noni questa ce la simuliamo questa ce la simuliamo mi procco un po' la situazione perché adesso ci siamo staccati tanti anche dalla settima posizione quindi attenzione attenzione tanto Nandes gol del centrocampista Naitan Nandes 1-0 al diciassettesimo attenzione Naitan Nandes al ventiduesimo doppietta di Nandes ancora Fagundes ancora noi è pazzo è folle è strepezza 3-0 partita senso unico al Braia vai al risultato 3-0 e olè e olè 3-0 contro la Samp bella tranquilla sta partita 3 punti fondamentali adesso abbiamo il Bologna l'Atalanta che comunque inizia sempre con la B perché Bergamo Calcio quindi altro incubo allora l'Atalanta è quarta 19 punti noi siamo ottavi a 15 come dicevo siamo tutti attaccati siamo a meno 7 dall'Inter adesso però comunque questo è il campionato di quest'anno tutte le squadre sono lì e siamo ancora alla decima giornata tutte le squadre sono lì salviamo e poi formazioni per l'Atalanta contro l'Atalanta giochiamo con Gagno a Giappong Andersen Viti Parisi collo con lo Svanberg Shimasky Mikotazzi Fagundes Calano lo giocano invece con Ortega in porta Zuma Sia Ahmed Solomon Fabian Ilic Elia Miranciuk Labord e Vitigna andiamo contro l'Atalanta fuori casa ah già Shimasky si inserisce palla per lui Shimasky 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 da Fagundes al diciannovesimo grande azione parte nostra diciannovesimo minuto 1-0 il Toro torna al gol 1-0 per noi assist meraviglioso tra la parte di Shimasky Ilic passa su collocolo Ilic Ilic niente infermabile Ilic ancora Ilic Ilic va alla conclusione Gagno vediamo un po' cosa fa Manor Calon perché rovesciata ci sei andato là cosa hai fatto Calon Vitigna dietro Fabian rete al trentesimo Yaya Calon gli era arrivato il pallone tranquillo rovesciata di Yaya Calon 1-1 e subito Parisi attenzione Fabiano incredibile Parisi Parisi ad incrociare col mancino traversa incrocio dei pali anzi Yaya dentro la Facundes palla per lui Facundes posizione regolare giusto sì Facundes tanto defilato Facundes il Toro doppietta al trentottesimo due occasioni due gol poi allora ci sono partite dove se li mangia tutti è partite dove ogni singola occasione che ha è un gol 2-1 l'abbiamo subito ripresa con Franco Facundes buona per Solomon salta Marco al Giapponga al 45 a Giapponga non riesce a rientrare Solomon dentro per Miranciuk Gagno e Labord la butta dentro per il 2-2 a primo tempo fino a 35 secondi l'ha buttata dentro Labord bravo Collocolo quanti palloni ha recuperato Michele Michele subito dentro per Facundes 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 tripletta del Toro al cinquantesimo sale tanto l'hai feso all'Atlanta e Michele Collocolo fa un passaggio meraviglioso per il Toro che ne fa tre gli scarpini di Facundes l'esultanza che più ci piace 3-2 per noi tripletta del Toro Agia Pog Callon si muove ancora Facundes è servito nuovamente Facundes contro siglia è più rapido Facundes secondo palo a cercare Micho Tazze per il 4-2 per il 4-2 al 54 assist da parte di Facundes per il Nook Baria che arriva 4-4 sul secondo palo nessuno che lo marca solissimo Micho Tazze 4-2 dai ragazzi adesso possiamo stare un po' più tranquilli novantesimo sul cronometro partita che è praticamente terminata noi che proviamo a fare il quinto con Svamberg che allarga verso Callon Callon è dietro per Svamberg Svamberg dentro per Facundes e Ortega Moreno fa un miracolo sta per fare il poker Facundes quindi finisce così la partita del Gavi Stadium vinciamo le 4-2 immediatamente 3 gol da parte di Facundes 1 da parte di Micho Tazze pallone con tutte le firme dei giocatori per Franco Facundes tentativi totali 5 gol 3 applausi per il Toru che speriamo che questa sia la partita definita dove finalmente si sblocca e ci fa da trichettatore in questa stagione perché ci serve ci serve il giorno stesso dove ha smentito la notte ha fatto un live da uno strip club totalmente ubriaco mostrando una pistola e quindi cioè voglio dire adesso ha disattivato tutti i profili social ragazzi è un gioco fatto benissimo 3-0 3 punti per noi vinciamo contro il Bodo ragazzi veramente non so cosa dirvi abbiamo il Napoli allora noi siamo ottavi in classifica ancora Napoli che è quinto a 20 punti noi vediamo da una bellissima vittoria per 4-2 contro l'Atalanta e una vittoria per 3-0 a tavolino contro il Bodo Klimt che a quanto pare è scoppiato un focolaio barra hanno avuto un botto da infortunati e quindi non hanno potuto giocare questa partita di esempio stradotto bug di FIFA non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo abbiamo dunque il Napoli Napoli che l'affrontiamo alla 12 giornata di campionato lo affrontiamo al Braia dobbiamo dare continuità a questa bella vittoria contro l'Atalanta formazione si va giochiamo con Gagni in porta Agia Pong Andersen Viti Parisi Collogolo Svanberg Schimaschi Mikautazze Fagundes Callon ora giochiamo invece con Paceco Munoz Philips Luperto Dumitrescu Santa Maria Cucumeca Skip Fujimoto Adeyemi Varazkelia e quindi cosa succederà Vara in porta Paceco alla sinistra andiamo contro il Napoli Varazkela è chiuso da Agia Pong poi Dumitrescu Santa Maria Largo verso Varazkelia esce in diagonale qui Andersen che poi la tocca anche palla arriva in qualche modo ad Adeyemi Gagno e poi ad Adeyemi ovviamente al diciannovesimo 1-0 per il Napoli tutti i gol quest'anno li stiamo prendendo in questo modo ossia su Gagno che fa un miracolo palla che poi rimane là e torna ovviamente a chi ha tirato che poi la butta tranquillamente dentro tutti i gol così quest'anno 1-0 Dumitrescu Largo il Got contro a Gia Pong buona per Varazkelia che passa qui su Andersen con un tunnel Varazkelia contro a Gia Pong e passano anche su a Gia Pong che ho balladiero per skip esce qui Andersen la devia attraversa e poi ovviamente tutti i gol così è incredibile Varazkeli a porta vuota è assurdo ragazzi Fujimoto grossi in mezzo di testa Philips 3-0 se li guardiamo se li guardiamo in una rete di rigore che bello 3-0 Philips il Napoli va verso la vittoria Santa Maria Chukumeka Varazkeli a Deyemi e sono 4 e quindi andiamo direttamente al risultato perché è una partita a senso unico questa 5-3 doppietta di Facunda e Sgoldi Svamberg ragazzi preferisco non commentare andiamo avanti adesso abbiamo due settimane per riposarci due settimane per riprenderci e ci servono ci servono tanto queste due settimane Fiorentina altra partitaccia anche se la Fiorentina ha venduto Petit all'Atalanta e così come ha venduto Brian Kill a qualche altra squadra che adesso non ricordo quindi hanno una formazione un po' rimaneggiata rispetto all'anno scorso solo un dicetimo in classiva e noi siamo ottavi non riusciamo per nulla a dare continuità ma non è una novità cioè tutta la carriera che stiamo parlando di continuità ma i risultati non riusciamo mai a dare per appunto continuità a quelli questi 5-5 contro il Napoli sono ingiustificabili ingiustificabili formazione e poi Fiorentina giochiamo contro la Fiorentina noi giochiamo con Gagno a Giappongo Michele Di Sviti Parisi Colloco L'Onandes Strepezza Boga Fagunda Scallò non lo giocano invece con D'Angelo Dodò Joe Victor Linormand Walter Fred Malé Chalanoglu Harrison Lukaku Sottile sempre formazioni stranissime della Fiorentina andiamo contro la Fiorentina fuori casa Lukaku dentro Parisi non riesce a chiudere Dodò Dodò dietro ancora per Lukaku Lukaku va da Harrison ha un po' di spazio e se lo prende tutto Harrison lo prova Gagno il calcio d'angolo Parisi da Strepezza buona per Boga grande uscita da parte nostra Jeremy rientra Boga Boga va da Fagundes adesso Fagundes sul destro da fuori Fagundes D'Angelo la blocca Callon Strefezza Jeremy contro Dodò Jeremy vede Fagundes lo cerca e lo trova il Toro che controllo Fagundes al 28esimo che gol meraviglioso il Toro si è sbloccato ufficialmente 1-0 al 28esimo che palla da parte di Jeremy che palla da parte di Jeremy ma che controllo da parte del Toro 1-0 ad incrociare col Mancino 6 gol in 3 partite per Franco Fagundes Strepezza attenzione perché nuovamente Fagundes inserisce come prima Fagundes 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 palla che esce di nulla sottile palla dietro stranissima ma lei la mette giù buona per Harrison che ovviamente realizza l'1 pari e che non è una novità che fanno dei gol stranissimi questi e che non è una novità 1 pari Jack Harrison e poi Harrison è partito Harrison per Lukaku sottile dentro ancora per Lukaku palla fuori palla fuori al 46 lancia lungo lancia lunga ricca lancia lungo lancia lungo vai buona per Fagundes Yaya Callon un po' fuori dal gioco in questa partita ma non solo in tutto l'episodio passa su Walter Callon Callon un po' fuori dal gioco Yaya Callon 2-1 al 52 tanto spazio sull'out di destra e ne approfitta Yaya Callon 2-1 il re leone Callon guardate sempre Fagundes come si inserisce perfettamente Fagundes Fagundes doppietta 3-1 il toro quant'hanno sofferto ste palle quanto l'hanno detto così vabbè quanto l'hanno sofferte sti palloni alti se siamo vabbè dai segnato il toro l'85esimo vediamo se riusciamo a allontanare Montiano malissimo è salito anche il portiere oh e Walter ha buttatento 3-2 all'86 3-2 all'86 mi sono fatto ho visto D'Angelo dentro la rigore nostra ho detto oddio devo regolare il pallone così andiamo al tiro invece no vinciamo 3-2 contro la Fiorentina una partita mamma mia che lascia perde ma tutta la stagione è così non c'è mai un 1-0 un 2-0 tranquillo no tutti 3-1 4-3 10-17 no non esistono risultati normali vinciamo contro la Fiorentina però allora classifica in Champions che ci vede ancora secondi 9 punti il Sevilla ha vinto contro il Paris Saint-Germain perché noi siamo a pari punti col Paris Saint-Germain quindi attenzione perché diventa decisiva sta partita se vinci questa poi all'ultima giornata si decide chi è il primo in classifica se vinci questa al Brea contro il Paris Saint-Germain potresti essere primo in classifica formazione contro il Paris Saint-Germain inutile sarà di quanto è forte il Paris Saint-Germain perché già lo sappiamo ma questa questa notizia dà ancora più brio dà ancora più brio contro il Paris Saint-Germain giochiamo con Gagno a Japong Andersen Viti Parisi colloco lo svammer Shimaski Miku Tazze Calon Fagundes lo giovano invece con Donnarum Makimi White Arauco Bremer Gusto Logic Madison Dinebim Bappé Leao Vamos tutti insieme tutti insieme l'urdo del Braia ci deve essere Decebbiot contro il Paris Saint-Germain ci siamo Yaya tutto bene mi sto a preoccupare Yaya mi sto a preoccupare si parte per modena Paris Saint-Germain Madison lo prova da fuori Gagno si sporchi quanti vorrei una volta in questa partita Lex Leicester si bella marcatura di Parisi dietro per Mbappé Mbappé da Lojek Gagno Leao Rossi mezzo sul secondo per Arauco a Japong sulla linea Gagno Gagno e stiamo solo al quattordicesimo con line perché qui a Japong ha fatto un miracolo sulla linea Madison dietro perdine bimba dentro per Mbappé palla a lato respiriamo eh contro Japong passa Raffaele Leao a Japong tiene là Lex Milan Mbappé dentro per Lojek Gagno già terzo miracolo di questo match Leao Lojek da fuori la blocca Riccardo Fagundes contro Rauco Buona per Schimanski Schimanski va dentro a cercare Franco che la mette giù nel petto fa scontrare i due Fagundes al 39esimo primo di report del nostro match il Toro fa scontrare Rauco e White e la butta dentro così il Toro Fagundes alla caca contro il Manchester United che giocatore meraviglioso che giocatore meraviglioso il Toro la butta da dentro Donnarumma non può nulla 1-0 per noi al Braia contro il Paris Sager Man Leao è più rapido di Aja Pong Leao Gagno Gagno fa la Champions League con un 77 euro è una cosa inguardabile dicevano dicevano Gagno ecco qua in effetti hanno pure ragione è come dargli torto è come dargli torto Leao dentro Logec Gagno ancora Gagno ancora Ferran Torres largo Fabiano Parisi su Hakimi Parisi Parisi apre verso Mikautazze Mikautazze a cercare sul suo nuovo Gallone che la mette giù con il petto Gallone e poi deviato da Gleason Bremer Schimansky Andersen Fabiano Parisi Mikautazze Svanberg passa su Madison in qualche modo la nasconda da Hakimi e poi dietro per Parisi Collocolo la gira verso Viti largo per Agia Pong adesso perdiamo anche un po' di tempo Callon contro Malogusto e passalo Yaya 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 è più rapido di Malogusto Callon dietro per Schimansky respinto e poi White non so cosa abbia fatto una mezza capriola in area di rigore Bappesi scontre Agia Pong ne approfitta Schimansky Schimansky attenzione Mikautazze che accompagnazione servita adesso Mika 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 defilatissimo e White la mette in corner al 79 confusione Paris Saint Germain fine bimba lo prova da fuori Viti respinge Collocolo Callon Schimansky Fagundes Sen Svanberg contro Rocco Svanberg 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 e palla alta Viti Collocolo attaccato da 300 giocatori avversari sbaglia collocolo allora Mbappé Ferran anzi Madison al 92esimo incredibile ha muto Little Braia James Madison 1-1 ho provato ad intervenire sul pallone con Viti ma nulla di fatto non c'è neanche tempo per imbastire un'ultimissima azione 1-1 1-1 niente di fatto una partita meravigliosa da parte dei nostri alla fine un 1-1 che comunque va benissimo perché voglio dire un 1-1 contro il pari di Sager non è una cosa di tutti i giorni peccato peccato davvero perché lì con Collocolo in realtà io non avevo aperto verso Calone avevo aperto verso a Giappong che era totalmente solo direi che per questo episodio è tutto vi ringrazio come sempre per aver seguito questo episodio vi ricordo che se volete seguire questa è reale al 100% via Twitch TheKing TV se invece volete sempre ragionare di conoscere me rimanere in contatto con me via Instagram e non TheKing se invece volete vedermi parlare di altro oltre al calcio via TikTok trovate il link in descrizione e il commento questo in alto e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti